ciao a tutti oggi prepareremo il pane veloce il tempo di preparazione della ricetta è di circa un'ora ingredienti sono farina doppio zero farina tipo 2 olio di semi sale zucchero lievito e acqua il quantitativo e gli ingredienti lo troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricette bimbi.blogspot.it andiamo il via alla ricetta iniziamo sciogliendo il lievito andiamo a mettere il lievito all'interno del boccale aggiungiamo l'acqua e lo zucchero lo andiamo a sciogliere per un minuto 37 gradi velocità 3 adesso andiamo ad aggiungere la farina la farina tipo 2 l'olio di semi e il sale e andiamo a impastare per 3 minuti a velocità spiga nel frattempo andiamo a ungere con olio una teglia da forno con coperchio gli facciamo partire il bimbi a velocità spiga per 3 minuti il nostro impasto è pronto adesso riprendiamo la nostra teglia andiamo a togliere l'impasto dal bimbi andiamo a dare una forma andiamo a posizionare l'impasto nella nostra teglia andiamo ad effettuare dei tagli sull'impasto andiamo a spolverizzarla con la farina dopo di che andremo a coprirla con un coperchio e la faremo cuocere da forno freddo per 40 minuti a 240 gradi trascorsi 40 minuti andremo a togliere il coperchio e la faremo cuocere a 200 gradi andiamo a metterli in forno freddo a 240 gradi pane veloce grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti